Sono convinto che Salvini, se si candidasse, avrebbe ottima opportunità di vincere il capoluogo Lombardo. È altrettanto vero che la scelta di Salvini, consolidata dalle affermazioni elettorali di consensi che alla Lega, e quindi io spero che da non milanese che non faccia la scelta di candidarsi a sindaco un po' egoisticamente, perché penso che lui possa essere un vero competitor per il governo nazionale. Penso che anche questo impegno che ha preso con i cittadini, lui semplicemente sta cercando di portarlo avanti con coerenza, non è una questione di opportunità o di opportunismo. Noi vogliamo vincere Milano, noi vorremmo vincere anche... Però non la volete vincere con un nome della Lega, questo era la cosa, non c'è un nome della Lega. No, no, nessuno ha detto questo, non abbiamo detto come se non deve essere nella Lega. Chi è il nome della Lega? Sto funzionando, cerchiamo ovviamente... no ma ecco, sapevo questa domanda e ovviamente i nomi o i nomi non li dirò mai perché... Quindi vabbè, ci sta dando la notizia che ci sono dei nomi coperti della Lega. Ci sta dando la notizia che ci sono dei nomi coperti della Lega. Sì, va bene, non ci dobbiamo... Anche nostre e secondo me è estremamente valide. Quindi di interno, non di esterni, cioè nomi interni alla Lega, non personalità esterne alla Lega, ma dirigenti della Lega. Che stanno esplorando. Certo. 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 Vedremo se non è... L'unica cosa che condivido di Parenzo, malgrado le diversità di vedute, che abbiamo un'ottima classe dirigente. Ma è vero, altrettanto, che i 5 Stelle fanno la partita a perdere. Questo mi sembra chiarissimo all'amministrativa. Visto dove andiamo. Però sono altrettanto convinto che è un po' opportunista dire facciamo posizione per garantire il maggior numero di posti nell'opposizione, ma è mettersi in gioco per governare e dare delle risposte, perché altrimenti, guardate, far politica è altra cosa, è l'ambizione di governare magari la propria città e mettere in campo quelle promesse che uno presenta ai cittadini, altrimenti diventa solo un opportunismo politico per avere un posto magari ben retribuito sui banchi dell'opposizione.